Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti o bentornati nella rubrica quotidiana del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 12 aprile 2021 e questa è la frase di oggi. Oggi è una frase di... non è anonimo, dobbiamo accontentarci di Madre Teresa. Lo so, volevate tutti anonimo, ma frenati i cavalli e oggi ci tocca solo Madre Teresa e quindi di Calcutta, chiaramente. La cosa migliore che tu possa fare è credere in te stessa, non aver paura di tentare, non aver paura di cadere e se ti capitasse levati la polvere di dosso, rialzati e prova ancora. è un messaggio fondamentale. Cioè, personalmente io i bambini dimanderi a scuola solo per imparare questo messaggio, che tutto il resto è noia. E no, non ho detto gioia. Cadere e rialzarsi è il mito umano. Cadere e rialzarsi è l'epica umana. Cadere e rialzarsi è la storia dell'umanità. Essere umano che vuol dire? Essere altruista? Sì, assolutamente. Ma l'altruismo è qualcosa essenzialmente rivolto verso l'esterno. L'altruismo compete con l'identità, ecco. L'umano, la storia dell'umanità, dell'umano, dell'essere umano, è la storia di una creatura che cade e si rialza. E non è che cade semplicemente fisicamente. Perché sicuramente questa frase di Madre Teresa è una frase, come dire, di stampo... è una frase fisica. È riferita innanzitutto a un ambito materiale e successivamente è figurativa. Cioè, Madre Teresa ci parla di cadere fisicamente, di toglierci la polvere di di dosso, perché chiaramente Madre Teresa parlava di... è diventata Madre Teresa in un ambiente, come dire, fisica... materialmente, fisicamente problematico. Non era una filosofa chiusa in un monastero che non aveva mai visto il mondo, eccetera. Madre Teresa era in prima linea sul campo. Quindi ci parla sicuramente di una situazione materiale, fisica. Successivamente può essere interpretata in modo figurativo, perché tutti quanti spiritualmente, mentalmente, psicologicamente, negli acciacchi della vita cadiamo, ci impolveriamo e ci dobbiamo rialzare. Però, ecco, ecco, io già andavo oltre, proprio nell'interpretazione più spirituale, perché per me quello che mi viene adesso ispirato è che l'uomo, l'umano, è caduto dai regni celesti, è caduto dallo stato di divinità, è caduto dalla sua condizione divina. Perché questo? Per intraprendere il viaggio di risalita, per poterci innalzare nuovamente allo status divino che non c'è più. E questo ci è dato da fare come specie e come individui. Detto questo, detto questo mi sembra sia già tutto da dire, detto questo c'è una piccolissima cosa. Ora, io non so questa frase in questo momento, non so in questa frase in che lingua originale sia stata detta madre Teresa di Calcutta, l'avrà detta in chissà quale lingua, che in questo momento io appunto non lo so, però qua c'è scritto la cosa migliore che tu possa fare è credere in te stessa, mettesse a fuoco in te stessa. Quindi è un messaggio rivolto prevalentemente a un pubblico femminile, no? Ok? Ora volevo mettere questo, sottolineare questo aspetto, perché tutto il resto penso di averlo già detto. Che è importante questo aspetto, perché, come dire, nel 2021 la condizione femminile è un po' data per scontata, ok? No, ma sì, ormai i diritti qui, pari opportunità, ci sono tutte, uomini e donne sono la stessa cosa, qui e lì a posto non ne parliamo più. Quante facce buffe e contrite devo fare per esprimere il mio disappunto, non nei confronti di madre Teresa, nei confronti del maschilismo, annaggia! C'è sempre bisogno, diciamo... Allora, il problema è che il femminismo è diventato come il maschilismo, un sessismo. Quindi, diciamo, non si può neanche più parlare cautamente o tranquillamente di femminismo, bisogna parlare di diritti delle donne in un certo modo. Perché? Perché quando già ormai si parla di diritti delle donne, tutti quanti escono di cocuzza e dicono, ah, i diritti delle donne sì, allora i diritti degli maschi no. Sentite, allora questa era una bella frase di madre di Teresa di Calcutta, non roviniamola, ok? Però non volevo, non volevo comunque, diciamo, fare l'ognorri su questa, su questa sottigliezza, ok? Non è che la noto e la metto sotto, se la spazzo via con la polvere sotto il tappeto, anche qui, perché avendo il giardino, io la polvere non la metto sotto il tappeto, la pesco fuori di casa, perché poi sono meridionale, quindi le cose le esco, perché al meridione uscire è transitivo, al nord probabilmente è transeunte, comunque va bene, insomma, ci siamo capiti. Questo era il video di oggi, se vi è piaciuto, gentilmente cliccate mi piace con tutto il potere che avete e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, cliccate sulla campanella per restare sempre aggiornati all'uscita dei miei nuovi video. Se volete mettermi in contatto con me, i link sono in descrizione gratuitamente, io non è che chiedo cose, faccio persone, chiedo cose, che altro da dire? Ah sì, grazie, grazie per la visione, grazie per la vostra attenzione, miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, io come sempre alla fine dei miei video, vi saluto e vi auguro il meglio, e solo il meglio, e al prossimo video, ciao!